Cantiere e città è un progetto promosso dal Ministero della Cultura insieme a Fondazione Scuola per le Attività e i Beni Culturali dedicato alle dieci finaliste Capitale Italiana della Cultura. Un percorso di affiancamento per valorizzare, soprattutto non disperdere, quelli che sono stati i dossier di candidatura. Noi ripartiamo proprio da qui, da Monte Sant'Angelo, il 23 e il 24 giugno insieme al Ministero, insieme alla Regione, insieme ai sindaci del Gargano, insieme a tutti gli stakeholders, ci ritroveremo per progettare e ripartire insieme per costruire insieme il 2024, l'anno in cui Monte Sant'Angelo sarà capitale della cultura per la Puglia. La cosa che più ci inorgoglisce è che il Ministero della Cultura, con la Fondazione Scuola per le Attività Culturali, con tutte le altre nove città insieme ad Agrigento, la vincitrice, la capitale del 25, hanno molto apprezzato i nostri progetti e questo ci fa molto piacere perché quei progetti partono da un progetto strategico del 2018 e dal 2018 e che abbiamo realizzato con la città, con la comunità, con le imprese, le associazioni, gli altri comuni e oggi si affacciano sul 24 e da lì ripartiamo con un progetto strategico dedicato alla cultura.